Il bollettino Covid in Abruzzo aggiornato dalla Regione per questa domenica 28 febbraio. Oggi sono 568 i nuovi positivi, 3 i deceduti. Aumenta il numero dei ricoveri e Pescara si conferma come la provincia più colpita. Le persone positive alla Covid sono di età compresa tra i 2 mesi e i 97 anni. Dei positivi 75 provincia dell'Aquila, 95 Chieti, 299 Pescara, 95 Teramo, 4 residenti fuori regione o con residenze in accertamento. Sono stati eseguiti 6.539 tamponi molecolari, 11.569 test antigenici con un rapporto tamponi positivi del 3,10%. 3 le persone decedute che in totale salgono a 1.701, 39.523 guariti nella nostra Regione con un più 44 rispetto a ieri, 13.244 invece gli attualmente positivi con un più 521, 704 i ricoverati in ospedale, più 16 persone, 82 ricoveri in terapia intensiva, più 5, 12.540 sono in isolamento domiciliare, più 505 rispetto al giorno precedente. Dall'inizio dell'emergenza in Abruzzo sono stati registrati 54.468 casi positivi al Covid.